L'Unione fa la forza, si sa, ma in questo caso serve anche a razionalizzare le spese e ottimizzare le risorse. La Camera di Commercio di Prato e quella di Pistoia hanno firmato oggi un protocollo d'intesa per la condivisione, promozione e organizzazione di iniziative comuni finalizzate a far emergere la qualità delle aziende dei due territori. Sicuramente l'Unione fa la forza e lo fa in un momento in cui abbiamo proprio necessità di esprimere tutta la nostra capacità di concertare e di unire le forze. È un intento che ci vede in questo momento protagonisti soprattutto per l'ottimizzazione di quelle che sono le risorse sempre più scarse ma per rendersi ancora più efficienti, efficienti in grado di rispondere alle esigenze delle imprese. Un grande esercito economico, circa 80.000 imprese che da questa alleanza potranno ottenere vantaggi perché raddoppia la capacità di organizzazione degli eventi, si amplifica la promozione e tutto grazie alla messa in rete delle risorse. La vicinanza fra Pistoi e Prato ci impone evidentemente di allearsi, di mettersi insieme per ottimizzare le risorse disponibili a vantaggio delle imprese e del territorio. Ecco che oggi vogliamo stringere ulteriormente i nostri rapporti per lavorare sulle promozioni perché sicuramente sono territori che condividono anche tante specificità. Il protocollo firmato oggi non è un punto di partenza nella collaborazione tra due enti che già hanno avviato percorsi comuni, seppure come adempimento di legge, è comunque unico caso in Toscana, percorsi che hanno riguardato i servizi di metrologia e di controllo sulle clausole vessatorie. Questo è un esempio di area metropolitana nei fatti? Sicuramente sì, ormai le aziende hanno superato da tempo i confini provinciali e di attore regionali, quindi bisogna sicuramente anche noi ragionari in un'ottica più ampia.